Ciao, sono Silvia Fichera, assegnista di ricerca all'Istituto Tecip della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questo periodo per la mia ricerca mi sto occupando del progetto Brainy. Il progetto Brainy è un progetto H2020 iniziato lo scorso maggio, il cui coordinatore è l'ECNIT di Pisa e per la Scuola Sant'Anna se ne occupa il professor Valcarenghi. In questo progetto il Sant'Anna si occupa di fornire un nodo 5G all'edge. Cosa significa all'edge? All'edge significa più vicino possibile all'utente. Questo perché tra i requisiti del 5G vi sono dei requisiti di processamento e di latenza, quindi di velocità di connessione, sia per i dati ricevuti, quindi per esempio se voglio trasmettere un evento in real time, questo deve essere processato il più velocemente possibile per essere inviato al device dell'utente, sia appunto per la connettività stessa. Con il progetto Brainy la Scuola Sant'Anna cercherà di fornirvi una città sempre più smart.